Le 5 razze di cane più costose. Al quinto posto troviamo il Ciao Ciao, alcuni esemplari arrivano a 8.000 euro. Al quarto posto troviamo il Samoyedo, con la sua estrema morbidezza arriva a 9.000 euro. Nel gradino più basso del podio troviamo il Saluki, originario della Persia e i suoi cuccioli toccano le 5 cifre. La medaglia d'argento va al Cavalier King Charles Spaniel. Un allegro cane, ma un suo cucciolo arriva a 14.000 euro. Qual è la tua razza di cane preferita? Fammelo sapere nei commenti. Di invetta alla classifica, re indiscusso delle razze di cane e il mastino tibetano, alcuni esemplari sono arrivati a costare 1,4 milioni di dollari.